Il sogno che svanisce e ridotto in cenere nel senso più vero del termine, c'è il rischio ora che quel poco rimasto in piedi possa crollare da un momento all'altro. Non esiste più Miragica nella zona industriale di Molfetta. Inaugurato nel 2009, candidato per diventare il più grande parco dei divertimenti del sud Italia, è ora un luogo spettrale, già cattedrale nel deserto dopo la sua chiusura nel 2018 all'indomani del fallimento dalla holding Alfa Park di Brescia che gestiva e controllava la struttura finita all'asta. Le ultime tre sono andate deserte, la base di partenza era intorno ai 4 milioni di euro, scesa adesso poco sopra i due. Le fiamme che si sono sprigionate lo scorso 18 luglio all'interno rendono non più utilizzabili le attrazioni in legno e in ferro che erano rimaste abbandonate. Distrutte o rimediabilmente danneggiate le attrezzature da ristorazione, gli arredi, le macchine elettriche ed elettroniche, i mezzi di sollevamento e trasporto che insieme ai terreni circostanti e i marchi di Miragica, Miragica Terra dei Giganti e Terra dei Giganti facevano parte della proprietà. L'inchiesta dalla procura di Trani accerterà la natura dell'incendio, l'ipotesi del dolo rimane quella più accreditata, ci sarebbero dei punti di innesco in almeno tre zone della struttura, segno che qualcuno potrebbe essere entrato, come era già avvenuto in passato, forse con l'intenzione di cancellare quello che rimaneva del parco e far scendere ulteriormente il valore della base d'asta. Il resto lo hanno fatto le sterpaglie e l'incuria, la conclusione più amara della cronaca di una morte annunciata.